e lavoro. Diamo il benvenuto a Enzo De Fusco, consulente del lavoro, l'avete visto in tutti i nostri servizi, ecco, esiste davvero, Enzo, benvenuto. Marcello Minenna, economista, dirigente Conso, ve lo conoscete, naturalmente vi presento Fulvia Guazzoni, imprenditrice, ideatrice responsabile del Festival dei Giovani in collaborazione con la LUIS. Allora, dottoressa, iniziamo da lei. Questo evento raccoglie migliaia di ragazzi a tutta Italia, quest'anno sono arrivati in 20.000 a Gaeta. Che esperienza ha avuta? Come immagina il loro futuro professionale i ragazzi che fanno le superiori? Allora, il Festival dei Giovani immaginate che nasce da una richiesta dei giovani stessi. Anni di frequentazione nelle scuole con gli insegnanti, con i ragazzi hanno fatto emergere questa esigenza. Noi vogliamo un luogo in cui finalmente poterci esprimere. I ragazzi si sentono un po' compressi dalle definizioni che si vedono attribuire costantemente dal mondo adulto e quindi hanno voluto dimostrare in qualche modo che sono diversi. Cos'abbiamo fatto? E al terzo anno hanno alimentato una rassegna di 230 eventi in cui loro sono protagonisti. Quindi loro hanno raccontato le loro storie, loro hanno raccontato i loro progetti di vita, i loro progetti di lavoro, perché c'erano delle giovanissime start-up e hanno espresso idee e talenti. Che cosa è emerso allora in questo contesto? Che i giovani forse non hanno una visione precisa del loro futuro, forse non ce l'abbiamo neanche noi tutto sommato e soprattutto non sono così preoccupati del futuro. Questo è un dato interessante. Loro sono preoccupati del presente e ci chiedono degli interventi sul presente per poter avere gli strumenti per costruirsi un domani futuro. Professor Minella, la disoccupazione giovanile è il problema dell'Italia, no? Beh, direi proprio di sì. Guardi, un terzo della disoccupazione giovanile d'Europa è in Italia. Ora c'è una strana coincidenza col numero dei crediti deteriorati rapportato all'Europa che noi ne abbiamo praticamente un terzo. Ora, per venirne fuori ci vuole la crescita. Questa è la parola che manca e peraltro bisogna vedere quale tipo di crescita perché se la crescita viene dalla tecnologia bisogna vedere che impatto avrà sul lavoro. Il problema è che la disoccupazione e la disoccupazione giovanile partecipano ad un grande problema della disuguaglianza che negli ultimi anni sta aumentando e purtroppo il periodo di crisi non ha aiutato, anzi i ricchi sono diventati più ricchi, come si dice, i poveri sono pure aumentati. Sono prima del Paglia, sì. Esatto, come si è detto con Monsignor Paglia. L'aspetto che io trovo critico però è che negli ultimi anni in tutte le determinanti della disuguaglianza, istruzione, sanità, casa, pensioni, ci sono stati interventi che non aiutano appunto a rendere la situazione migliore. Che futuro si costruiscono con lavori sempre più saltuari e poco pagati? Beh, a questi giovani si applica il sistema contributivo puro, vale a dire verrà calcolata una pensione sulla base dei contributi effettivamente versati. Quindi questo sistema contributivo penalizza soprattutto coloro che hanno più difficoltà ad accumulare i contributi. Insomma, sono persone che soffrono sia oggi perché hanno il lavoro a corrente alternata, ma anche domani perché avranno una pensione abbastanza povera. E basti pensare che abbiamo la stagione estiva alle porte, quanti verranno assunti con contratto a tempo determinato per poi tornare ad essere disoccupati. Quanti hanno aperto una partita IVA e avranno redditi molto bassi? Ecco, questa situazione genera due conseguenze. Punto primo, avranno una pensione che non supererà 800 euro, quindi per quando andranno in pensione sarà poco più che l'assegno sociale. Ma soprattutto non raggiungeranno un numero minimo di contributi e andranno in pensione più tardi degli altri. Si stima 73 anni. Dando Pagnoncelli, eppure il tema della politica è i pensionati e non i giovani. Sì, ci sono due motivazioni di fondo. Uno perché, come stiamo osservando anche nel dibattito, il tema dei giovani è un tema estremamente complesso. Non riguarda soltanto il lavoro, riguarda le politiche abitative, riguarda le politiche conciliative, i servizi per l'infanzia. Tutta una serie di elementi che favoriscono l'uscita dalla famiglia dei giovani. E nessuno ha la bacchetta magica. Ma il vero problema, a mio parere, è di carattere demografico, cioè il fatto che i giovani siano sempre meno. E quindi la politica che si nutre di consenso rivolge la propria attenzione prevalentemente alle classi di età più numerose. E basti pensare per esempio che al di sotto dei 30 anni gli elettori sono 7 milioni e mezzo e sopra i 60 anni sono 17 milioni e passa. Dottoressa Grazoni, come vorrebbero vedere cambiare l'Italia? Cosa è emerso dal vostro festival? Allora, è emerso, come dicevo prima, una concentrazione sul presente. Quindi quando noi abbiamo chiesto loro quali sono le proposte che vorreste fare per il cambiamento del paese, il primo punto è stata la scuola. Ed è straordinario questo, perché erano 16, 17, 18 anni. Cosa chiedono? Una scuola che dia loro maggiori strumenti. Una scuola in cui imparano, ma una scuola anche in cui si formano, sviluppano una personalità, per poter diventare più competitivi nel mondo del lavoro. Quindi loro sì, pensano al mondo del lavoro, ma pensano in qualche modo di potercela fare. Se noi non togliamo loro l'esperanza... Se loro si formano, possono anche darsi da farsi il mondo del lavoro. Professor Milena. Assolutamente vero. Dicevo prima, abbiamo un problema sulla scuola, sulla casa, abbiamo un problema sulla previdenza. Io però credo che abbiamo anche un problema collegato al nostro posizionamento all'interno dell'euro e dell'area valutaria in cui operiamo. Perché guardi, ci sono dei numeri e delle regole abbastanza interessanti. Noi abbiamo più o meno un 25% tra disoccupati, sottooccupati e inoccupati nel nostro Paese. Eppure c'è una regola che impone austerità sulla nostra finanza pubblica che dice che tra quest'anno e il prossimo noi in termini di produzione avremo raggiunto tutto quello che possiamo raggiungere. In termini di prodotto potenziale, usando una parola tecnica. Io mi chiedo, com'è possibile col 25% del fattore produttivo di lavoro così mal utilizzato che noi siamo al massimo del nostro potenziale. Qualcosa va rivisto, no? Avvocato, tra l'altro i numeri dicono che se non creiamo nuovi posti di lavoro i lavoratori e i pensionati saranno pari. Che succede in quel caso? Beh, noi abbiamo un sistema previdenziale che deve essere in equilibrio. Deve essere in equilibrio tra lavoratori e pensionati. Oggi noi abbiamo per ogni pensionato poco meno di due lavoratori, lo dice l'Istat. Ecco, in questa condizione già lo Stato ogni anno a fine anno deve versare oltre 100 miliardi nelle casse dell'Inps per rendere questo sistema in equilibrio. Ebbene, organismi internazionali ci dicono invece che il 2035 è l'anno in cui si raggiungerà il maggior punto di rischio del nostro sistema previdenziale e quindi bisogna intervenire. Certamente non con le solite politiche degli sgravi contributivi, ci abbiamo provato per vent'anni ma se oggi ancora parliamo di occupazione giovanile significa che non hanno funzionato e quindi a mio avviso bisogna agire su due leve. Punto primo, rafforzare l'economia e qui ci sono gli economisti. Punto secondo, bisogna intervenire nelle imprese perché non c'è solo un problema di qualità del lavoro, c'è anche un problema di qualità di imprese. Grazie ai nostri ospiti.